Ciao a tutti, in questo video spiegheremo le regole del gioco Liberty Ortef The American Insurrection un gioco edito dalla GMT Games il cui designer è Harold Buchanam il gioco è il quinto della serie dei giochi COIN questo acronimo COIN sta per Counter Insurgency ed è un sistema di gioco che è stato inventato per descrivere in sostanza in epoca moderna le operazioni, le simulazioni di guerriglia tra fazioni insurgenti, insurgency e fazioni contro insurgenti, COIN il primo gioco della serie fu Andin Abyss ambientato in Colombia in cui veniva contrapposti i cartelli renaltco trafficanti i guerriglieri marxisti, il governo colombiano e poi sono nati altri giochi sfruttando la stessa meccanica di gioco che spiegheremo qui cambiandone ambientazione e apportando ognuno qualche piccola differenza aggiungendo qualche piccola variazione nel corso della loro evoluzione quindi se siete interessati nella stessa serie ma volete cambiare ambientazione per esempio c'è Cuba Libre per quanto riguarda l'insorgenza dei fratelli Castro a Cuba la guerra in Afghanistan con i distant plane la guerra in Vietnam con Fire in the Lake questi erano i primi quattro giochi che sono quattro moduli della serie Liberty and Death è quindi in realtà il quinto volume della serie stessa allora vediamo un attimino come è suddivisa la plancia di gioco in realtà nel gioco fisico la plancia è solamente questa che vediamo in questa regione di spazio qui sul modulo Vassal sulla destra sono posizionati i mazzi delle carte e il deck che deve essere costituito cioè lo spazio dove vedere le carte attive e le carte dei turni successivi il gioco infatti è basato su delle carte evento che vengono risolte via via durante il turno non è un card driven game in senso stretto dove ogni giocatore ha una mano di carte che può giocare ma c'è questo mazzo di carte generico che ci dirà quale sarà la sequenza di gioco delle varie fazioni durante il turno e quali saranno gli eventi cui potranno avere accesso i giocatori durante il turno il gioco è un gioco pensato da 1 a 4 giocatori le fazioni sono la fazione inglese, la fazione indiana, la fazione americana e la fazione francese è possibile giocare anche con un numero inferiore di giocatori utilizzando i cosiddetti bot quindi dei flowchart in cui si danno, nel regolamento sono presenti proprio le istruzioni che spiegano ciò si danno le regole specifiche se una persona fisica non è presente e quindi deve essere il gioco a gestire una o più fazioni il gioco è addirittura possibile giocarlo in solitario quindi noi contro tre fazioni gestite attraverso dei flowchart delle istruzioni particolari per quanto riguarda la mappa in senso stretto quindi questa porzione di gioco qui sul modulo è stato già implementato il setup dello scenario più breve sono presenti tre scenari nel regolamento per cui già vediamo per risposti sulla plancia alcuni pezzi di gioco che ci aiutano nella spiegazione delle componenti sia della plancia che delle componenti del gioco stesso allora sul bordo qui abbiamo questo track che va da 0 a 50 che viene utilizzato per conteggiare diverse informazioni utili nel gioco che possono essere le risorse piuttosto che degli indicatori le risorse sono indicate attraverso questi simboli, questi cilindri che rappresentano i vari giocatori il giocatore indiano è questo marroncino di cui vediamo qui un esempio di unità sulla plancia in blu abbiamo l'americano, le truppe saranno blu anche sulla plancia di gioco in rosso l'inglese, il bianco il francese quindi in questo scenario ad esempio il giocatore indiano comincia con due risorse l'americano con tre, l'inglese con sei, il francese con otto abbiamo anche altri indicatori che ci dicono che servono a conteggiare il livello delle perdite durante questa guerra per cui abbiamo un indicatore chiamato il cumulative British casualties che vale 10, questo significa che ci sono state fino a questo momento 10 vittime nella fazione inglese e il cumulative rebellion casualties che ci sono state 12 vittime tra la fazione dei ribelli cioè tra le truppe americane e le truppe francesi nel gioco infatti quando si parla di fazioni sono suddivise due fazioni che sono la fazione dei ribelli, cioè i franco-americani e la fazione dei royalties, dei realisti quindi la fazione degli inglesi e degli indiani infine abbiamo l'indicatore del supporto o dell'opposizione l'opposizione per quanto riguarda gli americani in questo scenario parte da 16 il supporto alla corona, quindi agli inglesi, parte da 17 il gioco è un gioco tra virgolette semi-collaborativo nel senso che, parleremo più tardi delle condizioni di vittoria dei 4 giocatori ogni giocatore avrà una propria condizione di vittoria questa è proprio una particolarità dei coin games che sono asimmetrici da questo punto di vista però alcuni obiettivi dei vari giocatori sono comuni quindi il giocatore inglese e il giocatore indiano ad esempio hanno come comune obiettivo quello di avere il supporto quanto più alto possibile rispetto all'opposizione viceversa sarà un obiettivo comune dei francesi e degli americani avere un'opposizione alla corona quanto più maggiore quanto più grande e quanto più alta rispetto al supporto alla corona stessa infine abbiamo un altro indicatore che sta a 28 in questo caso dove c'è scritto che la Francia è in guerra perché in alcuni scenari la Francia comincia la partita non ancora in guerra c'è un indicatore che rappresenta l'intervento della Francia durante la guerra quando supera quota 15 il francese può dichiarare guerra all'inglese e quindi avrà sbloccate determinate azioni che potrà fare ma questo poi lo vedremo in un video successivo in cui andremo a spiegare nel dettaglio tutte le varie azioni possibili per i vari giocatori questa è infatti una seconda particolarità dei coin game oltre alla differenza nel conteggio della vittoria e quindi delle condizioni di vittoria della partita i vari giocatori avranno una serie di azioni differenti che potranno eseguire qualcuna sarà magari comune tipo la battaglia che potrà essere fatta sia dal giocatore inglese che dal giocatore francese o dal giocatore americano ma non dal giocatore indiano e viceversa ci saranno delle azioni che saranno proprie del singolo giocatore per esempio l'attività di persuasione con cui riesce ad ottenere risorse l'americano non l'hanno gli altri tre giocatori questo rende abbastanza nonostante le regole siano alla fine semplici e non siano tantissime rende comunque sia il gioco molto profondo e molto complesso con una curva di apprendimento abbastanza grande servono diverse partite soprattutto se si vogliono provare e esplorare tutte le varie fazioni tornando alla mappa la mappa ha un disegno molto semplice e pulito per quanto riguarda la mappa geografica in senso stretto abbiamo differenti regioni che sono suddivise tra province o città le province sono queste e hanno qui un nome per esempio il Quebec piuttosto che il Nord West la provincia di New York e via dicendo e si sono separate tra una all'altra attraverso queste righe tratteggiate che vediamo qui o attraverso questi bordinetti più marcati questi bordinetti più marcati alla sinistra di questi bordinetti più marcati troviamo delle province particolari che sono il sud-est cioè il south-west il nord-west il Quebec che sono dette riserve indiane per ricordarcelo abbiamo questo zero in nero posizionato qui e sono delle province che sono sempre neutrali adesso tra un momento vediamo cosa significhi oltre a queste province per esempio la Pennsylvania è un'altra provincia che non ha popolazione zero e può avere una condizione di affiliazione politica abbiamo le città le città sono Boston New York sono questi cerchi che vediamo qui si riconoscono anche perché hanno un numerino in giallo rispetto agli altre province che hanno invece un numero in bianco e sulla plancia si trovano in questa posizione quindi qui vediamo una sorta di visione zoomata per capire dove sono collegate le varie città sono adiacenti alle province limitrofe attraverso queste frecce per cui Norfolk la città di Norfolk per esempio è adiacente alla provincia della Virginia e la provincia del north Caloraina sia le province che le città diciamo gli spazi in senso dato in senso generico hanno un valore di popolazione che è questo numero che può essere uno o due in bianco saranno sulle province in giallo saranno sulle città nelle riserve indiane questo è sempre pari a zero e poi avranno due proprietà gli spazi questo vale anche per le riserve indiane che sono uno spazio che serve a determinare il controllo di una determinata spazio una provincia o regione o una seconda proprietà che serve a rappresentare l'affiliazione politica tra virgolette e adesso breve anche qui vediamo cosa significhi sulla plancia poi abbiamo anche altre aree altre box quindi che servono ad indicare le truppe che hanno a disposizione i vari giocatori per essere posizionate sul terreno di gioco quindi veniamo a descrivere brevemente quali sono le truppe e poi dove sono collocate per quanto riguarda gli americani quindi i blu cominciamo da loro hanno a disposizione tre tipologie di truppe tutte e tre sono per esempio facciamo una zoomata sono presenti in Persilvania hanno a disposizione dei cubi che sono i Patriot sono le truppe regolari i Continental dei Patriot abbiamo le milizie dei Patriot che sono questi cilindri e i forti che sono queste stelle l'inglese invece andiamo per esempio nello stato di New York ha a disposizione dei cubi rossi che sono i regolari inglesi dei cubi verdi che sono i Tories quindi della sorta di milizia tra virgolette non sono dell'esercito regolare che sono i cubi in verde e poi può avere per esempio qui vediamo nella città di New York City dove è tutto possono avere dei forti che sono le stelle gli indiani possono avere solo due tipologie di unità che sono i villaggi questi dischi e i cilindri che rappresentano i World Party ed infine i francesi che possono avere solamente i cubi bianchi che sono i regolari francesi sono quelli con minor tipologia di truppe a parte le unità che sono presenti sulla plancia di gioco quelle che sono a disposizione in base alle regole dello scenario sono piazzate in queste aree al lato ad esempio per quanto riguarda gli indiani qui abbiamo il numero di villaggi a disposizione vediamo che 6 sono già disposti sulla plancia questo numero serve anche in maniera molto rapida a capire quante unità abbiamo sulla plancia però in base allo scenario ha a disposizione questi altri 2 4 questi altri 6 villaggi che potrà disporre in base ad eventi e azioni particolari e le altre forze ha 8 cilindri a disposizione che sono qui che anche si potranno essere schierati per quanto riguarda il giocatore inglese ha già 3 forti sulla plancia di gioco ne ha altri 3 a disposizione in base alle regole di questo scenario ha altri 7 regolari a disposizione e 8 toris per quanto riguarda il giocatore americano ha ancora 2 forti che potrà indicare sulla mappa poi avrà 11 cubi quindi 11 continentali e una milizia a disposizione il giocatore francese ha a disposizione ancora 8 regolari che potrà disporre sulla mappa a parte quindi questi box altri box importanti sono le indie occidentali dove possono essere collocate truppe inglesi e francesi solamente sono presenti questi token il french squadron che rappresentano la flotta francese lì presente che potrà essere in base a determinate azioni presa da questo spazio e messe sulla plancia di gioco a fianco a delle città per metterle sotto blocco navale dando fastidio al giocatore inglese impedendone delle azioni e creando dei danni sostanzialmente al giocatore inglese un altro box importante è il box delle casualties dove quando in base a determinati eventi anche qui azioni che possono essere battaglie o scaramucce alcune unità devono essere rimosse non vengono poste immediatamente nel box degli available ma vengono poste nel box delle casualties in questo box finiranno tutti i cubi del gioco tutti i forti del gioco quando queste unità finiranno qua dentro verrà incrementato il corrispettivo indicatore delle vittime inglesi o delle vittime franco-americanes per quanto riguarda i forti anche essi il forti inglese o i forti americani una volta che devono essere rimossi come casualties concorrono ad aumentare l'indicatore sul track però transitano virtualmente nel box delle casualties perché tornano immediatamente a disposizione dei loro giocatori quindi immediatamente tra i forti a disposizione inglesi qui o americani qui per quanto riguarda poi il box inglese qui abbiamo un'area che sono le truppe non a disposizione e anche per il giocatore francese ci sono determinati scenari in cui delle truppe vengono schierate qui e alla fine di un turno di gioco vengono messi a disposizione del giocatore stesso a simboleggiare degli eventuali rinforzi che pian piano stanno partendo dall'Europa e stanno giungendo qui in America per quanto riguarda torniamo un attimino ai vari spazi le nozioni di controllo e di affiliazione politica quindi supporto o opposizione questo è molto semplice e intuitivo per quanto riguarda il controllo si va a fare un conteggio delle truppe realiste e delle truppe insorgenti quindi delle truppe dell'americano e del francese delle truppe ribelli e se una delle due fazioni ha maggioranza di truppe in quella regione piuttosto che nell'altra avrà assumerà il controllo di quella regione fa eccezione il giocatore indiano che da solo non può permettere il controllo alle truppe inglesi di un territorio quindi affinché l'inglese abbia il controllo di un determinato spazio la somma delle truppe inglesi e indiane deve essere superiore alla somma delle truppe francesi e americane ma deve essere presente almeno una truppa inglese pertanto ad esempio in questo spazio semplicemente abbiamo una truppa americana contro nessuna Norfolk è di controllo americano qui abbiamo solo inglesi e quindi Philadelphia è di controllo inglese qui abbiamo 2 più 3 5 6 7 8 pezzi addirittura franco-americani contro 1 anglo-indiano per cui il controllo è del giocatore americano qui non abbiamo controllo perché nonostante ci sia come dicevamo la maggioranza della fazione realista deve esserci almeno un'unità inglese per determinarne il controllo qui si ha questo concetto perché abbiamo oltre alle unità indiane anche le unità inglesi e il controllo di una determinata di un determinato spazio è importante perché influenza la possibile esecuzione di alcune azioni per quanto riguarda invece il secondo la seconda proprietà tra virgolette di uno spazio è l'affiliazione politica fatta eccezione delle riserve indiane che sono sempre neutrali non è possibile spostare l'affiliazione pro-america o pro- Gran Bretagna nelle altre regioni abbiamo questo indicatore che può valere uno o due e c'è l'indicatore di uno per quanto riguarda aumentiamo un po' lo zoom per quanto riguarda l'opposizione che può essere passiva che vale uno o attiva che vale due e viceversa potremmo avere anche un supporto che potrà essere attivo cioè a valenza due o passivo a valenza uno cosa significa ciò? significa che per ogni spazio in cui abbiamo il supporto o l'opposizione moltiplichiamo per uno o per due il valore della popolazione di quello spazio facciamo la somma per tutti il supporto che abbiamo e per tutta l'opposizione che abbiamo e riusciamo ad ottenere questo indicatore che si trova qui questo indicatore che si trova qui il total opposition e il total support questi all'inizio dello scenario sono settati qui perché se andiamo proprio a fare i conti della serva otterremo proprio quei valori cioè se andiamo per l'inglese a sommare il supporto che abbiamo in New Hampshire che è 1x2 più il supporto che abbiamo in New York che è 2x2 quindi 4 più tutto il resto otterremo proprio il valore 17 e così otterremo il valore invece 16 per quanto riguarda l'americano la presenza di supporto o di opposizione anche qui determina la possibilità di compiere o meno delle azioni ma è anche una delle condizioni di vittoria per i giocatori e quindi è molto molto importante per concludere il giro sulla plancia abbiamo come dicevamo prima questa zona delle West Indie dove ci sono questi squadroni questi squadroni sono squadroni navali che possono essere messi per mettere un blocco navale alle varie città e c'è un indicatore subito sotto che si chiama proprio il French Naval Intervention e ovunque è citato c'è l'acronimo FNI dove all'incrementare di questo livello il giocatore francese ha la possibilità di spostare una nave dalle West Indie e porla al blocco delle varie città infine qui abbiamo un'altra particolarità di questo coin che si discosta dai coin precedenti abbiamo a disposizione sulla plancia di gioco anche dei leader i leader forniscono delle abilità particolari alle proprie fazioni e alle azioni che queste compiono in generale sul modulo Vassal è presente un player AIDS dove sono presenti tutte le azioni delle singole fazioni ci entriamo nel dettaglio in video successivi la sequenza di gioco e la battaglia la procedura di battaglia però è rappresentata anche qui le varie i vari leader che hanno i vari giocatori e le abilità particolari che essi forniscono durante le determinate azioni sono comunque rappresentati qui questo per quanto riguarda brevemente la mappa di gioco e i pezzi che abbiamo a disposizione vediamo adesso come si svolge la struttura del gioco la struttura del turno la struttura del turno è la classica struttura dei giochi coin quindi vista qui vale per tutti i giochi a disposizione salvo piccole modifiche allora innanzitutto bisogna preparare il mazzo di carte per lo scenario qui nel modulo Vassal stiamo giocando la campagna del sud quindi il mazzo è stato già costituito il mazzo è composto da carte evento che sono messe in sequenza per cui peschiamo una carta che viene posta nella current carta quindi questa è la carta che sarà attiva in questo primo turno e i giocatori dal mazzo vanno a pescare anche una seconda carta e nel gioco reale la mettono sopra il mazzo che è la carta successiva cioè noi sappiamo che questo turno avremo questa carta in gioco il turno successivo ci sarà quest'evento in gioco quindi sappiamo già cosa fare adesso e cosa accadrà nel turno successivo le carte nel mazzo sono tutte carte con eventi storici a tema storico e quindi ripercorrono un po' l'epoca del su cui è inventato il gioco stesso all'interno del mazzo vengono inserite delle carte particolari che in questo gioco si chiamano winter quarters magari in fire and the lake sono le carte cup in cuba libre sono le carte propaganda che spezzano il turno la sequenza di turno usuale e permettono di giocare una sequenza particolare in cui si verifica se c'è un giocatore che ha raggiunto le condizioni di vittoria e vengono eseguiti dei reset e conteggi di nuove risorse in questo scenario sono presenti tre carte winter quarters quindi abbiamo tre momenti in cui i giocatori sono obbligati a verificare se un giocatore ha vinto la partita perché spiegheremo quali sono le condizioni di vincere della partita ma la partita non si vince non appena un giocatore ha raggiunto il suo obiettivo ma deve avere quell'obiettivo raggiunto quando gli viene richiesto la quarta winter quarters di determinare se ha in quel momento l'obiettivo è lì che si fa il check quando viene scoperta l'ultima carta la terza carta winter quarters se c'è un giocatore che ha vinto si determina il vincitore se non c'è un giocatore che ha raggiunto i suoi obiettivi si vede chi ci è andato più vicino poi lo spieghiamo meglio non scendiamo troppo nel dettaglio su come vengono costituiti questi mazzi però mediamente possiamo dire che c'è tra una carta winter quarters e l'altra mediamente ci sono una decina di eventi questo è un po' variabile perché viene messa mischiata questa carta nel mazzo con una meccanica particolare come si svolge il turno abbiamo una carta corrente che è stata appena estratta i giocatori leggono l'evento lì presente e nella parte superiore c'è l'ordine di gioco degli eventi cioè ci sono queste bandiere l'inglese l'americano in questa carta l'inglese l'indiano l'americano e il francese questo vuol dire che prima a scegliere cosa fare sarà l'inglese poi l'indiano l'americano e il francese nella carta successiva già sappiamo che l'ordinamento sarà invece l'indiano l'americano il francese e poi il giocatore inglese a questo punto dobbiamo utilizzare questa zona della mappa la sequence of play dove a inizio partita tutti i cilindri delle quattro fazioni si trovano nell'area eligible ovvero possono giocare in base alla sequenza del turno il primo a giocare è il giocatore inglese il giocatore inglese può decidere se compiere una determinata azione cioè una di queste azioni qui presenti oppure passare quando un giocatore passa rinuncia a giocare per quel turno però produce risorse quindi se a passare è il patriota quindi l'americano il giocatore indiano guadagna immediatamente una risorsa se è il giocatore inglese o francese guadagna due risorse immaginiamo che in questo esempio il giocatore inglese decida di passare quindi il giocatore inglese viene posto sull'area passa e dovremo incrementare di due le sue risorse a questo punto nella carta vediamo che dopo il giocatore inglese tocca al giocatore indiano scegliere cosa fare e poi all'americano il giocatore indiano anche gli ha la possibilità di passare oppure di scegliere cosa fare e quindi di porre il suo indicatore su uno di questi tre spazi supponendo che lo vada a piazzare qui dove c'è scritto comando e abilità speciale lui eseguirà un comando e un'abilità speciale non entriamo adesso nel dettaglio nei video successivi spiegheremo nel filo del persegno quali sono per ogni fazione questi comandi e abilità speciali quando avrà terminato toccherà al giocatore americano abbiamo detto e poi al francese il giocatore americano può passare per far risorse e poi toccherà giocare al giocatore francese oppure il giocatore americano sceglie di giocare e quindi dovrà porre il suo indicatore in questa seconda colonna ma qui c'è la particolarità dei giochi coin non può porlo in un punto qualsiasi è vincolato dalla scelta del primo giocatore quindi avendo il primo giocatore scelto di posizionarsi qui lui è obbligato a eseguire quello che sta scritto qui cioè un comando limitato o un evento in questo esempio se il giocatore indiano avesse scelto di giocare solamente qui un command only not special activity quindi solamente un comando il giocatore americano avrebbe fatto un comando limitato non avrebbe potuto fare l'evento per esempio a questo punto quando entrambe le colonne sono piene questo turno finisce quindi il giocatore francese non ha diritto di fare nulla neanche di passare e fare un soldo a questo punto tutti i cubi che si trovano in queste due colonne vengono spostati nello spazio degli ineleggibili quindi qui chi si trova sul passo torna tra le fazioni elegibili e a questo punto si va a pescare la carta successiva cioè questa carta utilizziamo l'automatismo di vassal per non creare problemi quindi li rimettiamo qui diciamo che la carta è stata giocata quindi li ha messi in automatico vassal la carta è stata messa negli scarti si pesca la carta successiva quindi la seconda carta del mazzo che prima stava nell'upcoming diventa la carta current sappiamo nell'upcoming è uscisa la terza carta e quindi sappiamo quel turno successivo ci sarà quest'evento con questa sequenza a questo punto l'ordine di turno è indiano americano francese inglese ma l'indiano e l'americano non possono coprire azioni perché sono inelegible solamente le azioni le fazioni elegibili possono compiere la propria azione pertanto in questo caso è come se tra virgolette virtualmente il simbolo degli indiani non ci fosse per questo turno il simbolo americano non ci fosse gioca prima il francese e poi l'inglese quindi il giocatore francese ha l'opportunità di scegliere cosa fare o passare se il giocatore francese sceglie cosa fare l'inglese ha la possibilità di passare o è obbligato o se vuole compiere un'azione è obbligato a posizionarsi su questo riquadro se invece il giocatore francese aveva deciso essendo il primo di passare il giocatore inglese che è il primo può passare anche egli o può decidere cosa fare immaginiamo che il giocatore francese decida di passare il giocatore inglese compie quello che deve compiere il gioco della carta è finito il giocatore inglese diventa ineleggibile chi era ineleggibile torna a essere elegibile e si pesca una nuova carta e quindi si procede alla carta successiva quindi questa è l'attiva e la successiva sarà questa e quindi adesso saranno tra queste tre fazioni a determinare l'ordine per cui giocherà prima l'indiano no qui la carta attiva è questa giocherà prima il giocatore francese l'inglese ineleggibile non potrà giocare poi toccherà al giocatore indiano e così via tutto questo flusso di gioco che è molto semplice in realtà va avanti fin tanto che verrà pescata la carta del winter quarter ovvero quando adesso procediamo qui sul modulo vassal pescando ulteriori carte quando verrà pescata la carta del winter quarter quella carta sostituisce immediatamente la carta corrente cioè qui stiamo vedendo ad esempio che la carta del turno successivo è questa andiamo a eseguire una pesca non l'abbiamo ancora trovata abbiamo Adam Smith che sarebbe la carta di questo turno non è uscito ancora il winter quarter c'è il generale Burgoyne come carta successiva che sappiamo in realtà dalla pesca del mazzo in alto esce fuori il winter quarter la regola questa è una particolarità rispetto ai coin precedenti se vediamo che la carta nel turno successivo all'attuale sarebbe stata il winter quarter in realtà si scambiano la carta del winter quarter e la carta attuale quindi in realtà il generale Burgoyne è rimasto in attesa di due turni diciamo così ed entra subito in gioco il winter quarter infatti c'è scritto che quando questa carta è scoperta si stoppa all'usuale flusso del turno e questa carta viene sostituita con la carta che doveva entrare in gioco e si conduce immediatamente il round del winter quarter il round del winter quarter anche qui sulla plancia di gioco in quest'area sotto le fazioni elegibili è rappresentato i vari step c'è questo indicatore che può essere posizionato qui per ricordarsi in che fase ci troviamo e vengono condotti determinati step per determinare se un giocatore ha vinto per fornire nuove risorse ai giocatori modificare il supporto e quant'altro terminata la fase del winter quarter se non c'è stato un vincitore e non è questa l'ultima carta winter quarter si ricontinua a pescare le carte e a risolvere con l'usuale sequenza di turno il gioco cosa viene fatto durante la fase del winter quarter anche qui andrò molto rapidamente però tutto è spiegato in maniera molto semplice e pulita sul regolamento e lo trovate anche nei player aids dove c'è appunto la sequenza di gioco che è quella che abbiamo appena spiegato e cosa viene fatto sul winter quarter questo qui allora innanzitutto si verifica se le fazioni hanno vinto la propria partita quali sono le condizioni di vittoria per ogni giocatore le condizioni di vittoria sono molto semplici il giocatore inglese vince la partita se il supporto totale supera l'opposizione totale di più di 10 punti e il numero delle vittime dei ribelli è maggiore del numero delle vittime dei britannici questo è indicare che c'è un supporto per la corona tale per cui il popolo americano non vuole rendersi indipendente e poi ci sono state più vittime tra le milizie tra le forze ribelli che le forze inglesi pertanto il giocatore è riuscito a sedare la rivolta il giocatore invece americano ha una condizione di vittoria leggermente differente cioè lui vuole che l'opposizione batta il supporto pertanto l'opposizione totale deve essere superiore di almeno 10 punti al supporto alla corona però poi affinché possa rendersi una volta essersi reso indipendente possa controllare il territorio deve avere anche una presenza di forti sul campo abbastanza forte per cui il numero dei forti più 3 deve essere maggiore dei villaggi indiani per quanto riguarda invece il giocatore francese se il giocatore francese vince la partita se l'opposizione supera di più di 10 punti il supporto e quindi c'è una spinta indipendentista anche qui nei confronti della corona ma il numero delle vittime questa è l'altra condizione il numero delle vittime britanniche è maggiore del numero delle vittime ribelli quindi oltre a spingere politicamente i nuovi Stati Uniti che si andranno a formare il francese è anche interessato a miedere quante più vittime possibili indibolendo quindi l'esercito di sua maestà per poter combattere più facilmente battaglie nelle restanti parti del mondo infine gli indiani non vogliono assolutamente che si formi una nuova nazione americana che sono quindi spaventati dalla modifica dello status quo dalle possibili invasioni e viaggi verso ovest degli americani vincono la partita se il supporto eccede l'opposizione sempre di 10 punti quindi vogliono che ci sia supporto nei confronti della corona inglese e il numero dei villaggi indiani quindi la loro presenza sul territorio meno 3 risulta essere maggiore dei forti del giocatore americano e quindi con la loro presenza sul campo riescono a contenere l'avanzata degli americani post guerra di indipendenza tutte queste condizioni di vittoria sono comunque poste qui nel victory check di ogni chart di ogni fazione sono comunque riepilogate per tutti quindi se un giocatore in questo primo check ha vinto la partita il gioco finisce qualora non sia questo il caso si procede oltre c'è una fase di supporto una fase di calcolo delle risorse e di supporto di supply per vedere se le truppe hanno i rifornimenti c'è una fase di supporto in cui si può modificare il supporto l'opposizione al governo e se questa era l'ultima carta winter quarter si determina il vincitore se dopo questo aggiustamento un giocatore vince la partita è il vincitore se un giocatore in questo caso non ha vinto la partita dopo questo aggiustamento si determina il margine della la vittoria cioè si determina quale dei giocatori è arrivato più vicino alla vittoria in maniera molto semplice si va a calcolare quant'è il supporto totale l'opposizione totale quanti forti e villaggi forti americani e villaggi indiani sono presenti sulla mappa e qual è il numero delle vittime da ambo le parti si fanno questi conteggi si fanno delle somme e delle addizioni di questo valore in linea con gli obiettivi che hanno come vittoria i vari giocatori e chi ottiene il numero più alto vince la partita cioè molto semplicemente immaginando di calcolare la condizione di vittoria e il margine di vittoria del giocatore inglese abbiamo detto che il giocatore inglese vince se ha un supporto maggiore dell'opposizione e un numero di vittime ribelli maggiore delle vittime del giocatore inglese una volta che abbiamo calcolato tutti questi indicatori si calcola un punteggio margine per il giocatore inglese che è dato proprio dal supporto meno l'opposizione più le vittime ribelli meno le vittime inglesi uscirà fuori un numerino si fa questo conto per anche le altre tre fazioni che al numerino che rappresenta il margine più alto riesce a vincere la partita se non è questo il caso non è l'ultima carta del winter quarter si procede successivamente con una fase di redeploy una fase di diserzione una fase di reset senza andare a spulciare nel filo e per segno tutte queste diciture che sono qui riportate molto semplicemente la fase di supply serve a vedere se le truppe non sono dislocate troppo distanti dai forti o dalle città o dai villaggi indiani a seconda della fazione e quindi i giocatori se hanno degli spazi che sono fuori dalle linee di rifornimento sono costretti a pagare delle risorse o rimuovere le loro unità o spostarle o pagarle dal punto di vista politico vediamo ad esempio solamente il caso dell'inglese i cubi dell'inglese sono in rifornimento se si trova in uno spazio con un forte inglese o una città con controllo inglese se non è questo il caso il giocatore inglese deve pagare una risorsa per ogni spazio che non è in rifornimento oppure shiftare di un livello verso l'opposizione attiva quindi contro se stesso perché lui vuole il supporto oppure rimuovere questi cubi e spostarli tra Yahweh e Lebole e sarà costretto a riportarli sulla plancia nel turno successivo attraverso un'azione di reclutamento e abbiamo anche delle verifiche simili per gli altri giocatori successivamente vengono conteggiate le risorse vengono aggiustate queste risorse per tutte le fazioni per esempio per quanto riguarda gli inglesi guadagnano un numero di risorse che è pari ai forti che hanno posizionato sulla mappa più la popolazione delle città controllate non bloccate se controllano anche gli indi orientali guadagnano 5 risorse il giocatore indiano invece guadagna delle risorse pari alla metà del numero dei villaggi sulla mappa arrotondate per difetto il giocatore americano guadagna un numero di risorse pari al numero dei forti sulla plancia più la metà del numero degli spazi controllati dai ribelli non conteggiando gli indi orientali anche qui arrotondati per difetto e infine il francese ha due metodi di calcolo delle risorse before TOA e after TOA TOA sta per Treaty of Alliance il trattato di alleanza in sostanza prima del trattato d'alleanza cioè se nello scenario il francese non è ancora in guerra prima che egli entri in guerra guadagna un numero di risorse che è pari a due volte il numero degli squadroni che si trovano nelle West Indie cioè il numero degli squadroni nelle West Indie è questo in questo caso se il francese non fosse entrato in guerra in questo turno guadagnerebbe 6 risorse nel caso in cui invece sia stata dichiarata guerra come in questo caso guadagna un numero di risorse pari al livello del French Navarre Intervention che in questo caso risulta essere 0 quindi non ha diritto a risorse in questo caso però più la popolazione delle città che non sono controllate dagli inglesi inoltre anche 5 punti di risorsa se controlla le Indie Orientali in questo caso lui controllava l'Indie Orientale quindi almeno 5 punti di risorse da lì arrivano a questo punto è possibile sfruttare subito nella fase del supporto le risorse così ottenute oppure è una fase facoltativa oppure mantenerle per utilizzare nel turno successivo per spendere durante le azioni del turno successivo in questa fase prima il giocatore inglese e poi il giocatore americano attraverso questa azione possono cercare di comprare il supporto il giocatore inglese o l'opposizione del giocatore americano cioè possono cercare di spostare questi segnalini verso l'active support se siamo inglesi o verso l'active rebellion o position se siamo il giocatore americano per far questo un giocatore può spostare massimo questo token questo livello di due livelli per spazio è possibile selezionare un numero di spazi a nostro piacimento però ci sono dei vincoli il giocatore inglese può spendere risorse per comprare il supporto negli spazi controllati in cui ha almeno un regolare o un tori quindi per l'inglese il supporto tra le altre cose è importante per costruire all'interno un il controllo è importante per costruire il supporto per il giocatore americano invece il patriota può spendere risorse per incoraggiare l'opposizione alla corona negli spazi in cui ha comunque un pezzo quindi un forte piuttosto che un continental piuttosto che una milizia e deve essere uno spazio comunque controllato dal ribelle ci sono delle azioni durante il gioco che permettono di indicare di porre sui vari spazi dei segnalini che sono i segnalini raid o segnalini propaganda allora se sono presenti dei segnalini raid o propaganda su uno spazio dove il giocatore inglese vuole costruire il suo supporto in questo caso deve prima pagare per rimuoverli una volta rimossi potrà incrementare il suo supporto mentre per quanto riguarda il giocatore americano dovrà prima rimuovere i segnalini raid e poi potrà incrementare l'opposizione a questo punto se questa era l'ultima carta del winter quarter si determina il vincitore se no si passa alle fasi successivi che sono la fase di redeploy e la fase di diserzione oltre alla fase di reset la fase di redeploy poi molto brevemente permette di modificare un leader come dice il primo punto la fazione che sarà la prima di turno nell'evento successivo deve eseguire un cambio di leader abbiamo detto che i leader sono queste personalità che forniscono alcune determinate capacità e quindi delle piccole modifiche e dei bonus alle azioni che potranno fare i vari giocatori c'è una sequenza con cui questi leader si evolvono tra virgolette pertanto salvo il giocatore patriota che ha solamente Washington e non potrà eseguire nuovi cambi il giocatore francese che magari comincia la partita con Rochambeau in questa fase se la carta successiva al winter quarter è una carta in cui il giocatore francese è il primo di turno è costretto a modificare a togliere Rochambeau e modificarlo con Lausanne e anzi le altre fazioni potranno fare lo stesso qualora siano le prime fazioni a giocare nella carta successiva al winter quarter sempre in questa fase di rideploy è possibile spostare i leader prima il giocatore indiano con il francese poi l'inglese e poi il patriota lo possono spostare da uno spazio ad un secondo spazio dove ci sono sempre gli stessi pezzi di gioco e in base alle istruzioni dello scenario alcune forze inglesi possono essere spostate dal blocco degli unavailable al blocco degli available quindi si immaginano questi rinforzi che dall'Europa sono giunti finalmente a disposizione per la guerra in America infine dopo la dichiarazione di guerra il French Naval Intervention deve essere modificato scende di un livello e quindi un blocchade viene rimosso da una città a scelta del francese e viene posto nelle Indie occidentali il francese poi se ha ancora dei blocchi navali posti sulle varie città può ridisporli riarangiarli a suo piacimento tra le varie città infine c'è una fase di diserzione dove prima c'è la diserzione dei patrioti per cui ogni 5 milizi e ogni 5 continentali uno deve essere rimosso arrotondato per difetto toccherà al giocatore indiano scegliere quale sarà la prima rimizia o il primo continentale quindi il primo cubo a essere rimosso gli altri saranno ad appannaggio del giocatore americano e infine ci sarà la diserzione dei tori per cui viene rimosso un tori ogni 5 e una mappa sempre arrotondato per difetto il primo sarà scelto dal giocatore francese e gli altri saranno rimosso invece a scelta dal giocatore inglese infine c'è questa fase di reset di clean up in cui vengono rimossi tutti gli eventuali segnalini propaganda o raid che sono rimasti sulla plancia tutte le fazioni diventano elegibili tutti i cubi che si trovavano o i pezzi che si trovavano nei casualties vengono posizionati tra gli available e quindi rientreranno a disposizione del giocatore dei corrispettivi giocatori nel turno successivo e infine tutte le milizie e war parties quindi i cilindri che hanno quel doppio status di attivo e di underground tornano underground quindi tornano nascosti e saranno possibili quindi riattivarli successivamente nel turno avvenire in base alle azioni di questi giocatori si deve a quel punto risolvere anche la carta winter quarter in particolare l'effetto che è presente sulla carta winter quarter ad esempio in quella che abbiamo pescato noi in questo caso c'è il royal commit per cui nell'esempio specifico se il numero delle vittime ribelli è superiore al numero delle vittime inglesi il francese aggiunge 5 risorse altrimenti il giocatore inglese aumenta di 5 risorse durante questa fase a quel punto poi la carta winter quarter viene scartata la carta che sarebbe dovuta essere la carta corrente per questo turno che è stata in realtà soppiantata dal winter quarter diventa la carta attiva viene pescata la carta per il turno successivo e si ricomincia con l'usuale sequenza di turno in cui appunto la prima fazione è essere elegibile scegliere se passare piuttosto che eseguire una determinata azione la seconda è vincolata alla scelta delle prima e via discorrendo finché non sono state pescate tutte le carte winter quarter o comunque non si è arrivati nello step di determinazione di vittoria della partita di una carta winter quarter a determinare chi è il vincitore del gioco e queste sono le regole di base di liberty or death che grosso modo ripeto sono un po' le regole di base di tutti i giochi coin per quanto riguarda la meccanica e la simmetria nelle condizioni di vittoria poi naturalmente ogni fazione come accennato avrà a sua disposizione un set di comandi e di attività speciali sul cui entriamo meglio nel dettaglio nei video successivi di